Nel primo tempo tra Genoa e New Team, partita molto avvincente dove Genoa però si è portata in vantaggio Stiamo giocando a una chiavica, no bene, una chiavica Io personalmente ho mangiato un paio di gol, dobbiamo far giocare di più la palla e evitare di giocare da soli Diciamo che c'è molta autocritica in questa tua intervista No, 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 perché sappiamo che se giochiamo bene vinciamo facile, quindi dobbiamo giocare come sappiamo fare Purtroppo la sostituzione ci è venuto a meno all'ultimo, quindi dobbiamo pure conservare un po' di energia per il finale Va bene, grazie mille e buona fortuna Andiamo da qualche elemento del New Team, portiere? Iacovelli Iacovelli, avete giocato una buona partita in questo primo tempo, però è stato quel blackout di 5 minuti che vi è costato caro E avversamente sono andato in vantaggio Ci rifaremo, ci rifaremo Spero per voi nel secondo tempo, grazie, a dopo Grazie a voi Ciao, qui nell'ultima partita della Summer abbiamo visto affrontarsi il Genoa con rappresentante Salvi, MVP del match e Dioniso Per la prima volta di Dioniso avete giocato un buon primo tempo, secondo me Eravate sul pareggio, poi cosa è successo nel secondo tempo? Blackout? Diciamo che ci siamo un po' Siamo un po' venuti meno sulla lunga, diciamo, loro più esperti, la prima della classe Diciamo che abbiamo mantenuto, però poi alla lunga sono venuti fuori con la loro bravura Sì, sicuramente loro nel secondo tempo hanno meritato la vittoria, anche se secondo me nel primo tempo avete giocato un'ottima partita Sì Perché forse è mancato un po' di fiato che poteva aiutarvi Sì, 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 questa sarà una cosa che verrà man mano col tempo Sì, man mano si gioca, ovviamente, arriverà sempre meglio Sì, sì, sarà un piacere ritrovarli di nuovo per affrontarli, una bellissima partita Complimenti a loro e al rumore della squadra Puoi fare una dedica a qualcuno? Magari personale? Sì, sì, personale, perché fra un mese mi sposo, la dedica a loro Augurissimi, da tutto l'esercato Grazie, la dedica a loro Grazie Grazie mille, arrivederci, ciao Augurissimi Adesso siamo con Salvi, MVP del match, accudiamo anche la medaglia Spesso, Salvi, in queste partite con molti gol si cerca di dare migliori in campo agli attaccanti Anche se secondo me questa partita l'hai vinta tua difesa, insieme alla tua difesa Perché non avete concesso veramente pochissimo alla squadra avversaria È stato molto roccioso, molto maschio lì dietro e non hai concesso quasi nulla La partita l'abbiamo vinta tutti comunque, a prescindere da migliori in campo Comunque poi loro davanti la buttano dentro Se noi difendiamo bene, automaticamente viene tutto bene Sicuramente quando ci sta una grande affinità di gruppo tutto è molto più facile Siete la prima della classe, non per questo offrite sempre un buon calcio E non c'è, ovviamente non c'è niente da dire, soltanto i più sentiti complimenti Grazie Vi auguro un buon proseguo di campionato, devi regolare la season e magari di vincere il torneo Magari, grazie Grazie Dedico la vittoria a mia sorella, altrimenti si arrabbia E alla mia ragazza Grazie, ciao ragazzi